Benvenuti, benvenuti cari amici, siamo Piti, questo nuovo video, naturalmente come sempre ricordo di ti suggerire il like, iscrivervi il canale, iscrivervi anche il canale Telegram, continua ancora la corsa italiana classica. All'interno di questo video andrò a vedere quello che sta avvenendo su LUNK, ma soprattutto andrò a vedere anche quello che sta avvenendo potenzialmente su Bitcoin ed Ethereum, e per cui iniziamo subito. Per cui andiamo a vedere quello che sta avvenendo sul reparto altcoin, X più 23,7%, LUNK più 18,8%, IOTA più 17,1%. Quindi in generale giornata positiva per quanto riguarda le altcoins, ieri abbiamo avuto la rottura da parte di Bitcoin dei 38.400 dollari e soprattutto c'è stato lo Sky Rockets da parte di LUNK. Io già l'avevo comunicato giorni fa, come dal mio punto di vista LUNK avrebbe potuto proseguire la sua incorsa, è iniziato l'inverso e per cui andrò a vedere tutto ciò che riguarda la Telegram classica in questa fase di mercato. Per somminare di 1.384, market cap di 802 milioni, ma soprattutto notiamo volumi, insensibile aumento, più 201% sul giornaliero, coi 348 milioni. Buono il rapporto volume e market cap, pari al 39.26%, quindi attenzione perché LUNK potrebbe continuare la sua corsa. Ovviamente in realtà nel gruppo Cowboy stiamo sfruttando letteralmente questo trend. Poi vogliamo andare a vedere maggiori dati, perché finora sono stati bruciati 68 miliardi di LUNK, che rappresentano circa l'1% del totale, quindi ad oggi non abbiamo visto ancora nulla, però attenzione perché se il tasso continuerà di bruciatura in questo modo, nel giro di 5 anni potremo riuscire a bruciare circa 400 miliardi di LUNK, e quindi sensibilmente avvicinarsi verso quella che potrebbe essere un'altra pietra miliare per quanto riguarda Terra-Luna classica. In questo momento ho anche il supporto da parte di Binance, da parte del nuovo CEO, da parte di Binance, per cui andano a vedere il tutto. Andiamo a vedere i top burner di LUNK. Il primo posto troviamo Binance con il 52.5%, poi Def LUNK Protocol con il 4.9%, quindi vediamo che la maggior parte di LUNK sono stati letteralmente bruciati da parte di Binance, che secondo me ha letteralmente potere, andremo poi a vedere il perché. Ovviamente è anche uno dei principali holders da parte di LUNK, ma quello che mi piace è che nel giro di praticamente 9 mesi, vedete qui 28 febbraio 2023, LUNK è andato a bruciare altri 23 miliardi. Vi ricordo che fino ad ora era da circa un anno che avevamo questo burn e avevamo bruciato i 20 miliardi, nel giro di solo 9 mesi abbiamo bruciato altri 23 miliardi. Quindi ottima l'action di LUNK, soprattutto nell'ultimo periodo dove ci sono stati grossi volumi. Per cui io prevedo che nel periodo di bull market, quello serio, andremo a bruciare davvero tantissimo. Ora, andiamo a vedere il perché c'è stato questo burn, che tra virgolette è violento dei Terraluna Classic, perché non so se lo sapete, ma ogni mese Binance va a bruciare una parte dei LUNK che vengono letteralmente tradati sia a spot, ok, che margin, trading. Circa il 50% dei trading fees va a bruciare i LUNK, quindi considerate che Binance ha una tassa del 0.1% in acquisto e 0.1% in vendita e la metà va a bruciare letteralmente i LUNK. E questo mese, guardate qui, abbiamo attualmente il sedicesimo batch mensile che va dal 31 di ottobre fino al 29 di novembre, che ormai sono trascorsi, sono stati bruciati praticamente 4 miliardi di LUNK. Quindi notizia positiva. Si può anche andare a vedere quelli precedenti, ok, se volete, ogni, diciamo, barn ha comportato un determinato numero di LUNK bruciati. Vedete, il primo ne andò a bruciare letteralmente circa quasi 6, vi ricordo che il primo barn venne quando ci fu quei Skyrockets famoso nel 2022. Quindi andiamo a vedere quello che è stato l'ultimo barn. come già detto sono stati bruciati 3,9 miliardi di LUNK e voglio mostrarvi anche quelli che sono i volumi, ok, in questa fase di mercato. Perché guardate qui, volumi di questo tipo non li vedevamo da un anno circa, ok, per quanto riguarda il settimanale, circa un miliardo di dollari e volumi sulla settimana, quindi insomma sono stati volumi ingenti. è praticamente da quello che è il minimo, ok, del 13 maggio 2022 e siamo sopra di un 1380%, ovviamente l'ultimae siamo sotto praticamente quasi di un 100%, vi ricordo l'ultimae è a 118 dollari. Ora, non torneremo mai a tali livelli, non torneremo mai a un dollaro, però potenzialmente molti dicono che l'Una Classic potrebbe bruciare uno zero. Sì, è fattibile, ok, non è impossibile, ovviamente ci vuole una consistente barra, ma soprattutto iniziano le nuove liquidità. Però abbiamo visto che insomma rischiano a manipolarla fortemente, rischiano a muoverla in maniera forte, quindi secondo me non avrà grossi problemi, ok, potenzialmente ancora a salire, per non vedere anche i target che potenzialmente potrebbero avere. E soprattutto vorrei ricordarvi quella famosa settimana del 5 settembre del 2022 dove addirittura i volumi sul settimanale arrivano a 10 miliardi, quindi considerando che questa settimana abbiamo fatto un miliardo potrebbe essere l'inizio, ok, letteralmente, di un inverso. Andremo ora a vederlo rispetto a loro, che ne abbiamo visto niente, ok, giusto per dare un'idea, perché è importante osservare questi dati. Dopodiché voglio mostrarvi anche quella che è la situazione per quanto riguarda il mensile, ok, perché tanti non vanno a considerare il mensile, vediamo che chiaramente qua c'è stata una rottura, c'è stato un inverso che vi ho già comunicato e potenzialmente vediamo se l'action può continuare. Secondo me abbiamo buone possibilità, perché abbiamo rotto innanzitutto questi 13.500 di livello, che era una resistenza molto importante, in questo momento sembra essere diventato un supporto, ma soprattutto potenzialmente anche fino a zona dei 18 non abbiamo resistenze, quindi vediamo che se come primo livello andranno a prendere questa zona dei 18 che secondo me risulta essere fortemente interessante, andiamo a vedere anche il weekly, weekly c'è ancora spazio, siamo a 67 per quanto riguarda il RSI, quindi buono, abbiamo breccato la media a 50 periodi e la media a 20 periodi, però attenzione perché proprio la media ora a 20 periodi potrebbe farci il supporto e portarci su, quindi potenzialmente io vedo che fino ai 18 potremmo letteralmente fare schierockets, ovviamente ci terremo aggiornati, andremo a vedere quelli che sono i volumi, però insomma sarebbe un ulteriore 36% che non sarebbe per nulla male, ok, per quanto riguarda il LUNC, ovviamente non sono neanche si fianza così i trading, però vedete anche qui abbiamo fatto 13.3, 13.3 che era una vecchia resistenza e da qui potremmo prendere e ripartire, se vi ricordate nel precedente video parlavo di questa resistenza che poteva diventare supporto quella di 11.1 ed effettivamente è stato così, quindi ora potremmo avere la stessa identica cosa da questi 13.3 potremmo prendere e ripartire, vedo difficile in giornate di domani anche se in passato abbiamo visto anche di Sabatisera dove LUNC faceva letteralmente Sky Rockets quindi attenzione perché è difficile controllare questa coin e secondo me da qui, da fine ai 18.6 non abbiamo resistenza quindi potenzialmente possiamo andare e anche andare forte poi dove sto trovando io LUNC lo sto trovando su BitGet quindi ti lascio sotto la link in descrizione se non lo stai utilizzando perché c'è una grossa promo in questa fase che andrà a scadere tra 25 giorni vorrei ricordartelo e la promo è la seguente cioè quanto denaro andrai letteralmente a depositare su BitGet riceverai un cashback del 100% per il nuovo utente quindi secondo me è una promo molto molto interessante e se vuoi sostenere il canale ti lascio sotto il link in descrizione dopodiché andiamo a dare anche quello che sta avvenendo su WSTC perché c'è stato anche qui un bel pump molto violento vi ricordo che WSTC comunque capitalizza la metà di LUNC i volumi sono inferiori però anche qui buono il rapporto volumi e market cap pare il 42.22% guardate qui sul mensile abbiamo fatto letteralmente numeri ok pazzeschi se andate a fare circa un 5x attenzione perché WSTC e LUNC sono fortemente collegate secondo me se continuerà la corsa di LUNC molto probabilmente può continuare WSTC andrà a seguire l'unica cosa che non mi piace al momento siamo di gran lunga sotto a livello di medie mobili abbiamo la 20 guardate qui in zona 3 centesimi quindi insomma questo è un po' pericoloso però abbiamo fatto anche pamponi fino a 7.7 quindi potenzialmente secondo me WSTC può andare a riprendere tali livelli come ho già fatto in passato poi volevo vedere anche le situazioni di BIT un BIT forte nonostante la giornata insomma di sabato vediamo che insomma non ci sono tendenzialmente grandi pump però attenzione perché sembra che Bitcoin voglia andare a prendere 40.000 target più che fattibile in questa fase di mercato ma soprattutto voglio mostrarvi anche Ethereum perché Ethereum potrebbe diventare letteralmente incandescenti in questo momento prezzo di 2.104 un ITER che sta iniziando a performare Bitcoin ma soprattutto potrebbe rompere quella resistenza di 2.140 abbiamo spazio per andare a rompere sì siamo a 64 per quanto riguarda l'RSI settimanale e volevo andare a vedere anche con voi per quanto riguarda il mensile perché insomma ITER potrebbe spingere in questo momento siamo a 54 55 vedete come sul mensile ITER sembra rappresentare una bella forza e soprattutto una bella propulsione resista quindi attenzione a Bitcoin attenzione a Ethereum che sembrano essere fortemente interessanti anche per chi tradaleva in questa fase di mercato quindi vediamo cosa ci aspetta ma io ritengo che possiamo far bene soprattutto vogliamo stare anche su One Hour perché abbiamo avuto un picco addirittura 39 mila dollari guardate qui Bitcoin è andato a prendere 39 mila dollari quindi secondo me è fase che potremmo ritestare guardate qui su One Hour come andiamo tendenzialmente a prendere proprio la media 20 periodi che ci sta facendo letteralmente da supporto quindi attenzione a Bitcoin attenzione a Ethereum perché sembrano fortemente bullish in questa fase di mercato infine vogliamo andare a chiudere anche con l'Alcoindex siamo letteralmente scarichi quindi secondo me le Alcoin andranno a prendere forza su Bitcoin ma soprattutto chi può prendere forza in questa fase di mercato è Ethereum che ieri come vedete ci ha provato è andato a prendere 3.5 successivamente respinto e vedremo se magari potenzialmente nelle giornate di oggi o nelle prossime giornate Ethereum andrà nuovamente a performare Bitcoin vi ricordo che la media a 200 periodi si trova addirittura in zona 0.06 quindi direi molto interessante Ethereum contro Bitcoin infine vi ricordo che se anche tu vuoi migliorare quelle che sono le tue conoscenze del mondo cripto ma soprattutto entrare all'interno del gruppo cowboy dove noi sentiamo letteralmente strategia e andiamo ok a sfruttare questo trend di mercato perché di un trend risulta essere ti ricordo che puoi portare il tuo collega gratuito e andare a vedere tutti quelli che sono i servizi che io potenzialmente posso offrirgli e per questo se ti è piaciuto questo video ti ricordo di di suscrittare il like di iscrivervi al canale e no ci vediamo presto hasta la vista hombre